Grazie a tutti. Ho avuto un po' meno della prestazione, purtroppo l'esperienza da fare più che altro è quella dell'attesa, questi tornei con la nazionale, perché non è come i campionati italiani che la sera, la mattina ti vedi e il giorno giochi, ma sono passati ben quattro giorni, quindi diciamo che rompere il ghiaccio così è un po' più impegnativo, però ce l'abbiamo fatta sulla terza represa e abbiamo recuperato, va bene così, daremo molto molto di più alla finale. Nella finale incontrerai Rasmussen, che cosa ti aspetti, sei preoccupata? Sarei stata più preoccupata se avesse vinto la tedesca in realtà, perché a me è un'esperienza però è molto chiusa, quindi meno spazio da colpire e attacca per tre riprese continue. Invece lei è mancina, è alta, è longilinea, quindi più spazio da colpire, più possibilità di fare tecnica e non rischiare di fare un match tipo Rissa da strada. Quindi mi aspetto comunque un match impegnativo, perché ad arrivare ad una finale europea stupida non è becchi, però me la giocherò col cuore sicuramente, perché l'esperienza che ha lei, che è l'attenziana della categoria, sicuramente non la tocco, non la sfero nemmeno, però ci credo tanto e farò bene. Grazie.